Siamo al 27 di dicembre, abbiamo un paesaggio uno più bello dell'altro, il callar della sera, guardate qua, questi colori, queste nuvole, nerastre, sugli sfondi della Gorgona, ancora più lontano, è una cosa fantastica, meravigliosa. La registro, nel giro di poco, poi la metto in giro, mi sposto leggermente verso l'isola più grande dell'arciperago, che la vedete là, si stalla in maniera decisa, no? L'isola dei sette paesi, provate poi a andorinarla, e l'isola del Badaio, riuscire a vicino ancora di più.